Signora, da quanto tempo viene qui alle terme di Caramanico? Ci avevo 8 anni. Quindi sono 70 anni. Una giornata di festa per Caramanico con la riapertura delle storiche terme dopo le vicissitudini note. Per il momento non apre i battenti la reserva per la quale ci vorrà ancora del tempo, ma intanto è stata scongiurata la chiusura dello storico impianto alle falde della Maiella. L'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Mauro Febbo si dice soddisfatto per aver salvaguardato i posti di lavoro. Siamo con Franco Masce, che è liquidatore. Oggi è una giornata importante per le terme di Caramanico. Da dove si riparte? Con dei colloqui con la regione che ha promesso di aiutarci ad ampliare i clienti delle cure. rendendo possibili delle cure che attualmente sono dedicate soltanto agli assistiti INAIL, anche agli altri assistiti del sistema regionale. Il sindaco di Caramanico Luigi Diacetis. Chiaramente noi richiediamo, come già stato fatto, tutto l'impegno da parte della regione. L'assessore Febbo, che si sta interessando mercoledì, faremo un ulteriore tavolo di crisi in regione con la società delle terme e i sindacati. Richiederà un ulteriore impegno perché la situazione comunque rimane della società critica. Quindi il sostegno ci vuole ancora e la situazione deve essere ancora seguita in maniera molto approfondita e con molta attenzione per garantire che tutti i lavoratori, gli albergatori, i commercianti e tutti gli operatori del settore possano ancora pensare di avere un futuro legato al termalismo qui a Caramanico. Da dove viene? Io sono di Caramanico perché io ho lavorato 37 anni, adesso non sono in pensione e sono contentissima che ho riaperto. E' un po' commossa? Sì, sì. Vedendo riaperto il cangello, sì. Da dove venite voi? Da Sulmona. Siete contenti della riapertura delle terme di Caramanico? Contentissimi, è una decina di anni che ci veniamo. Quanti giorni sarete qui? Quando? Fino a... 35. 35, per osto. Sentite, posso chiedervi se non sono indiscreta da quanto tempo siete sposati? Noi, da 50 anni buoni. È 20 anni che vengo qua. Abbiamo tanto pregato di aprire queste terme. Tanto. Siamo con Mario Mazzocca che è stato per 10 anni sindaco di Caramanico. Ma qual è la storia delle terme? Ma lo stabilimento termale si insediò qui nei primi anni del Novecento, 1901, in corrispondenza dei lavori di realizzazione del ponte. La proprietà da pubblica, subito dopo l'occupazione tedesca, venne trasferita al privato e da allora quindi viene gestita come attualmente da una società privata che attualmente poi è diventata del S.P.A. da qualche anno. Prendiamo qua i 40 anni, mi chiamo Giorgio. Siamo state a Montecatini, siamo state a Sassomaggiore, però dice signora avete quella bella con la Caramanica, diceva un peccato venire qua.